ciao amici oggi vediamo come tonificare le braccia non ti abbattere mai tonificare le braccia e fare sparire il temutissimo effetto tendina è possibile basta un po di impegno e fare gli esercizi giusti e siccome a nessuno piace avere o vedere braccia flaccide oggi ho chiamato la mia amica serena che ci farà vedere gli esercizi migliori per tonificare e dimagrire le braccia sono facili ma efficaci veloci e adatti a tutti e danno risultati in fretta se vi piace l'idea mettete un bel mi piace a questo video tanti mi piace tanti nuovi video e se volete seguire tutti i training con serena e tutti i miei video di benessere naturale basta iscriversi al canale è facile basta un clic così e attivate la campanella delle notifiche perfetto vai serena con il training e voi amiche amici dateci dentro con le braccia di benessere naturale 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 benessere naturale di 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 benessere naturale benessere naturale di benessere naturale 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 benessere benessere ort Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.